Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento quotidiano con la rassegna stampa di TV Luna Napoli. Oggi è domenica il 10 novembre e i fatti in prima pagina sono quasi sempre quelli dei giorni scorsi, vale a dire l'implosione del PD, le tasse locali, la terra dei fuchi per quanto riguarda la Campania e la vigilia e ormai ci siamo stasera di Juventus Napoli. Però per quanto riguarda il Corriere della Sera adesso ve lo facciamo vedere, c'è una notizia che è proprio del giorno, vale a dire che cosa sta succedendo nelle Filippine e purtroppo è un tipo di notizia di quelle che poi man mano che passa il tempo peggiora sempre, vale a dire c'è una tempesta senza precedenti, circa mezzo milione di sfollati, paura anche in Cina e in Vietnam, si tratta del tifone che devasta le Filippine e fa più di 1200 morti. In realtà poi questa mattina la cifra è molto aumentata, il giornale viene stampato la sera ovviamente perché si parla addirittura di 10.000 morti, se non di più per quanto riguarda poi quelle isolette, le Filippine sono formate da 800 isolette che per l'appunto non si hanno poi notizie. Ma vediamo il dettaglio della notizia su Corriere della Sera, uno dei tifoni più violenti che si siano mai abbattuti, vento a 320 km all'ora, onde marine alte 15 metri, Aianne le Filippine orientali ha ucciso finora oltre 1200 persone, lasciandole quasi 500.000 senza casa e non è finita. Dall'isola di Eiete, dalla città di Tacloban, il tifone fa rotta verso Vietnam e Cina, la comunità filippina in Italia cerca di comunicare con ogni mezzo, con le zone di disastro per mandare aiuti. Vediamo anche la foto di un bambino, i bambini sono sempre il simbolo delle tragedie, delle calamità naturali e anche in questo caso purtroppo abbiamo tanti bambini vittime. Ma veniamo per quanto riguarda il Corriere della Sera a parlare della politica interna, innanzitutto per quanto riguarda il governo e il Parlamento, vale a dire il discorso delle tasse locali che significa passare in Parlamento con gli emendamenti e adesso vi spieghiamo perché. Ci sono le addizionali comunali salite dell'8,5%, la mappa degli aumenti delle città e il record di Roma, tasse locali appunto conto da 503 Euro, c'è l'intesa tra PDL e PD, sono i partiti che compongono la maggioranza insieme a scelta civica al governo, pensioni bloccate solo sopra quota 3.000. Vediamo ancora il breve resoconto in prima pagina con la stangata fiscale, ci scrive Enrico Marro che stavolta arriva dagli enti locali, ogni cittadino dovrà pagare in media 503 Euro di tasse a Comune e Regioni, più 8,5%, sei volte il costo della vita, sollievo dall'intesa PD, PDL sulle pensioni agganciate ai prezzi quelle fino a 3.000 Euro. Insomma, diciamo meglio che si tratta sia di discorsi nazionali che di quelli locali, ma questa vignetta che invece Giannelli oggi ha scelto per il commento ai fatti nazionali e in particolare per quelli economici, ci mostra Letta e il Ministro dell'Economia Saccomanni, quindi Premier Ministro dell'Economia sotto una pioggia, la pioggia di questi bigliettini, non so se riuscite a leggerli, c'è scritto su ogni bigliettino emendamento e a questo punto, visto che si parla della legge di stabilità addirittura d'arrivo, dice il... strano però perché non si capisce se parla Letta o Saccomanni, ma è la stessa cosa, diciamo che quindi parla il governo che per dire non c'è niente di più instabile della legge di stabilità. Poi c'è l'improsione del PD di cui vi dicevo, praticamente si litiga su tutto, vediamo lo scontro nel partito con il titolo innanzitutto, i democratici litigano su tutto, Prodi non voterò alle primarie, è il caso del giorno per quanto riguarda la politica, c'è lo scontro nel partito dal congresso al PSE alla Cancellieri, tanti temi e in particolare l'alta tensione sono contrasti sull'adesione al partito socialista europeo, sul tempismo con il quale Matteo Renzi ha detto che il ministro Cancellieri doveva dimettersi e sul congresso dell'8 dicembre, Romano Prodi dopo il tradimento dei 101 parlamentari che gli sbarrarono la stata del Curinale ha deciso che non voterà alle primarie, insomma una situazione difficile per il partito fondato proprio da Prodi. Adesso noi però vogliamo farvi vedere una curiosità, anche se poi qualcuno magari si spaventa, ed è quella della paura che viene dal cielo come intitola per l'appunto il Corriere della Sera, il satellite goce cadrà tra oggi e domani, ci saranno frammenti anche sull'Italia, cerchiamo di saperne di più con il richiamo in prima pagina di Armando Torno, quindi molti avranno sentito parlare di questo satellite, vediamo per l'appunto di chi si tratta il satellite goce, è un apparecchio da una tonnellata e uno in orbita nei cieli del nostro pianeta e senza più carburante, la sua caduta già cominciata ieri si concluderà entro le 13 domani in un'aria imprecisata del globo, è possibile che alcuni frammenti cadano tra oggi e domani in Italia, il satellite goce si aggiunge ai numerosi corpi piombati dal cielo nei secoli, in Italia si ebbe una pioggia di meteoriti il 16 giugno 1794 a Siena, fumo, lampi e fulmini rossi, le pietre pesavano tra pochi milligrammi e tre chili, la paura insomma viene dal cielo, in ogni caso se qualcuno ha paura vi ricordiamo che c'è molta più probabilità che si vinca al superenalotto magari con quello europeo con tanti milioni in ballo, piuttosto che cada qualche cosa in Italia, diciamo che è stato calcolato dagli scienziati, c'è una differenza di 250 mila volte in più dei fulmini, essere colpiti da un fulmino che è un fatto raro, piuttosto che essere colpiti da un frammento di questo satellite. Veniamo al mattino, dunque cambiamo giornale, veniamo al mattino che invece ha preferito puntare sull'evento di cui appena vi parlavo, quello di Prodi, Prodi che non voterà alle primarie, il PDL, quindi appunto parliamo sempre di due partiti che sono in fibrillazione, il PDL verso la lettura, c'è il pressing su Berlusconi, la famiglia lo invita a dimettersi prima della decadenza e poi c'è lo strappo del professore che agita il PD Epifane Attaccarenzi sul caso Cancellieri. Allora vediamo il richiamo in prima pagina su questa ultima vicenda politica, non voterò alle primarie, non per polemica, ma ho deciso di ritirarmi dalla vita politica, non sono un uomo qualunque, se voto alle primarie devo dire per chi, come e in che modo, lo ha detto Romano Prodi a proposito delle primarie del PD del prossimo 8-9 dicembre. Nei PD nervi sempre più tesi, sul caso Cancellieri Epifani. Bacchetta Renzi, il segretario rivendica le ultime scelte che ha dovuto prendere da segretario del PD e rimanda al mittente le accuse piovute gli addosso nei giorni scorsi da Matteo Renzi, mettendolo in guarda. Non ci dovrà essere un partito di esterni contrapposto a un partito di iscritti perché abbiamo bisogno di tutti. E intanto poi ci sta il fatto del PDL, come vi accennavo prima, il discorso di Colombo e Falchi, dunque Falchi e Colombo ormai separati in casa, pressing su Berlusconi, la famiglia lo invita a dimettersi prima della decadenza. Avevamo accenato anche al discorso delle pensioni per quanto riguarda la legge di stabilità, pensioni rivalutate fino a 2.500 Euro, casa sia le detrazioni sulla tasi. Un po' più di previsto, ma nella tradizione delle manovre finanziarie sono circa 3.000, per la precisione 3.093 gli emendamenti alla legge di stabilità depositati in Commissione e bilancio del Senato. Ricorderete la vignetta di Giannelli sul Corriere della Sera che appunto ci faceva vedere questa pioggia veramente incredibile di biglietti su cui c'era scritto emendamenti. Ipd dice stop al blocco delle pensioni fino a 2.500 Euro, credit di imprese, lo Stato garante con le banche. Ancora per quanto riguarda il quotidiano di Napoli il mattino, la spalla è dedicata allo sport per il match clou di questa sera, Juventus-Napoli, giustamente la super sfida come viene definita dal mattino con le schermaglie, però Conte nervitesi e provoca Benitez senza scudetto non ha fatto niente, cioè se non vincesse lo scudetto non avrebbe fatto niente, una polemica che il mister della Juve evidentemente c'è in nervitesi. La foto è quella di Benitez con Higuain, il riassunto in prima pagina del capo dello sport il mattino Francesco Teruca, vediamo che cosa ci dice e poi ci torneremo in particolare ovviamente. L'allenatore della Juventus Conte ha reso elettrica la vigilia della partitissima con il Napoli provocando Benitez, se non vince lo scudetto non ha fatto niente, un guanto di sfida. I toni non erano concilianti come nelle due giornate di scambio di opinioni tecniche con Rafa in settembre nella sede svizzera della UEFA. Sempre per quanto riguarda il mattino con eventi di cronaca sui quali torneremo, vediamo infatti una storia di cronaca nera che è decisamente sconcertante, che ha scoperto il mattino il vitalizio del clan all'assassino di Gersomina Verde, ricorderete fu bruciata a Scampia, comunque 10 mila euro al mese per far tacere il killer. Il pentito svela un retroscena shock della guerra di Camorra a Scampia, da nove anni il boss paga il suo silenzio. Come vi ho detto però ci torneremo in particolare quando parleremo della cronaca di Napoli. Invece questo signore nella foto di un monumento, potrebbe essere per esempio San Martino, ebbene si parla dell'orto abusivo sulla Certosa. È una campagna che il mattino ha iniziato ieri e dice che c'è una bufera su questo soprintendente, si chiama Fabrizio Vosa, deve dimettersi. Perché? Il core unanime, Fabrizio Vona, il soprintendente ai poli museali di Napoli, ha sbagliato e deve dimettersi. Ha stato sconcerto la vicenda raccontata ieri mattina dell'orto privato e abusivo realizzato al soprintendente sul tetto della Certosa di San Martino. Vona, tra l'altro, chiede scusa e ammette che non sapevo che acquerressero autorizzazioni. Appena ottenuto il dissequesto, rimuoverò la rete emessa per proteggere gli ortaggi dai topi. È certo che un soprintendente non sa, sembra un po' strano. Comunque noi vogliamo restare ancora sul mattino per farvi vedere altri due argomenti, diciamo più di costume, vale a dire Monferrato, i giudici sottraggono la figlia ai genitori in età avanzata se la famiglia si disegna in tribunale. Ce la racconta questa storia sconcertante della nostra Italia, ce la racconta Titti Marrone. Alcune sentenze sulle controversie familiari lasciano il dubbio di una tentazione serpeggiante, quella di ridisegnare al tavolino in base a sollecitazioni giuridiche il profilo della famiglia. Ritenendo imperfetta quella originaria, i giudici a volte cancellano le presenze di madre e padre e preferiscono affidare i figli ai servizi sociali, dopo averne disposto la sottrazione anche con mezzi perentori condannati per inadeguatezze psicologiche. L'ultimo caso è avvenuto nel Monferrato, quindi Piemonte, dove a una coppia di coniugi diventati genitori a un'età poco avanzata, 58 anni, lei a 70 lughi, è stata sottratta la figlia dalla nascita. Ancora per quanto riguarda il mattino, prima di lasciarlo, veniamo sulla storia che riguarda invece il web. Beh, ci ritorneremo. Adesso parliamo del Corriere del Mezzogiorno, che invece ha preferito in titolare sulla marcia che riguarda la terra dei fuochi. E in particolare si tratta, scusate un attimo, vediamo di riprendere il giornale che sta scappando. Il Corriere del Mezzogiorno dicevamo, parla della terra dei fuochi, soprattutto perché ci stanno tante fiaccolate in questi giorni. Allora, vediamo in particolare il titolo, il titolo in silenzio contro i veleni interrati. Abbiamo un po' di problemi stamattina col touchscreen, perché se ne va. Comunque proviamo ancora su questa pagina, che come la terra dei fuochi diventa un po' diciamo cattiva anche con chi manovra il touchscreen questa mattina. Proviamoci allora ancora una volta in silenzio contro i veleni interrati. In particolare si si riferisce alla marcia di Caserta, dove ben 20.000 hanno sfilato alla marcia insieme ai Vescovi e senza slogan, con la Melissa dei Girolomo che nel frattempo dice chi inquina paga le bonifiche, i comitati non trasferite il capo della forestale. Cerchiamo di capirne di più con il richiamo in prima pagina, poi magari andremo sulla pagina interna. Vale a dire, un lungo corteo, almeno 20.000 persone, che ha attraversato ieri il centro di Casetta per protestare contro i roghi tossici e i veleni industriali interrati. Un corteo scandito da un pesante silenzio, senza slogan, per sottolineare il senso di vuoto dovuto ai morti per malattie ambientali. La chiesa al completo ha sfilato con i giovani e con le associazioni ambientaliste. Infatti c'erano Monsignor Spinillo e Monsignor Riboldi, Alex Zanotelli e Don Maurizio Patriciello. La risposta di Casetta conferma che questa terra si salverà, hanno detto i sacerdoti. Intanto la ministra di Girolamo, la ministra dell'agricoltura, dice chi inquina paga ed è allarme tra gli ambientalisti per il paventato rasferimento di Sergio Costa, che è il capo della forestale che sta portando alla luce i veleni sotterrati. Questo era per quanto riguardava il Corriere del Mezzogiorno sulla vicenda della terra dei fuori. Adesso passiamo sempre sul Corriere del Mezzogiorno a parlare della partita, ma come vi ho detto ci torneremo abbastanza spesso sulla partita che stasera si gioca alle 20.45 allo Juventus Stadium. Il Corriere del Mezzogiorno ha preferito mettere la foto di Benitez che dà indicazioni ai suoi. La sfida tra Juve e Napoli ha già infiammato a distanza i due tecnici. Benitez, Juve favorita per lo Scudetto, Conte e Napoli, la squadra che si è rinforzata maggiormente. Sono scaramucce prima dei big match di questa sera allo Juventus Stadium. Il Napoli deve fare la gara perfetta, risponderà a Benitez, si vince con mente e cuore. Nino D'Angelo che ha scritto una canzone che si chiama mente e cuore, ringrazia. Questo per quanto riguardava il Corriere del Mezzogiorno. C'è poi sempre sul giornale diretto da Marco De Marco la vicenda urbanistica di Piazza Garibaldi che sta originando una polemica ed è spinosa che l'ex soprintendente che ci dice tu bi orrendi su Piazza Garibaldi, Venezia, l'urbanista ha ragione ma sbaglia non lavorare qui perché se n'è andato. Allora vediamo un po' che cosa ci scrive per l'appunto il Corriere del Mezzogiorno. Se provate a chiedere a Nicola Spinosa che fino al 2009 e per circa 25 anni, pensate, è stato soprintendente a Capodimonte di chi è la responsabilità del degrado di Napoli, non ha dubbi della politica, non certo dell'architettura. E sui dubbi del progetto per roll che stanno cambiando il volto di Piazza Garibaldi, Spinosa concorda con l'architetto Francesco Venezia che ieri appunto in intervista l'abbiamo letta al Corriere del Mezzogiorno aveva suggerito di rimuoverli. Però attenzione dice Spinosa, a Venezia l'ex soprintendente muove anche una critica, elementi brillanti come la sua dovrebbero lavorare in città altrimenti lasciano spazio appunto alla mediocrità e alla disonestà. Ora cambiamo giornale restando sulle prime pagine, veniamo alla Gazzetta dello Sport che la domenica si chiama Gazzetta Sportiva. Bene, il calcio in primo piano, in particolare c'è l'Inter sotto la testata per la vittoria di ieri sera sul Livorno 2-0 grazie all'autogol di Bardi che poi tra l'altro è un giocatore di proprietà dell'Inter e di Nagatomo. Felicità Zanetti nel Moratti Day che viene fatto il circoletto per evidenziare la figura dell'ormai ex patron dell'Inter con l'ingresso di Toyota. Applausi, cori e medica stazioni, insomma la festa non ha voluto mancare anche Zanetti per l'appunto a rientro dopo sei mesi. L'apertura della Gazzetta dello Sport invece è sul caso Milan con una svolta storica. Allegri rischia molto col Chievo ma è da Arcore che arriva la sfezzata più importante. Sapete che ad Arcore c'è il presidente e proprietario del Milan Silvio Berlusconi che ha voluto appunto incontrare il suo General Major, chiamiamolo così, insomma quello che ha caratterizzato la vita del Milan da quando Berlusconi diventava presidente fino a oggi e quindi non a caso il titolo è lungo addio riferito alla testa pelata diciamolo su via di Galliani perché entro aprile il club sarà di Barbara. Ma sempre sulla Gazzetta dello Sport ovviamente non si poteva non parlare della sfida del giorno. Eccola qua, Juve Napoli, scintille per accendere l'otto scudetto ovviamente sono le foto di Tevez e Higuain che fanno la partita si può dire sono i principali rappresentanti non solo delle due squadre ma anche diciamo dell'attacco della nazionale argentina. Conte su Benitez se non arriva primo avrà fallito la replica voi favoriti tutti i segreti del duello. Ma su questa partita torneremo perché adesso passiamo alla cronaca di Napoli e ci torneremo ricordiamolo anche con gli appuntamenti TV Luna Napoli che è sempre presente alle partite del Napoli da un'ora e mezzo prima della partita e poi anche un'altra ora e mezzo dopo la partita comunque Juventus Napoli sarà seguita appunto dalle nostre squadre in diretta e a colloquio anche con i tifosi e quindi avremo la possibilità su TV Luna Napoli di seguire anche come atmosfera quello che succederà stasera a Torino. Ma veniamo appunto al mattino come vi ho detto in prima pagina c'è il riferimento al soprintendente Vona che dice chiedo scusa non sapevo e in particolare il soprintendente Fabrizio Vona è pentito ho sbagliato chiedo scusa appena mi verrà concesso il dissequestro dell'orto la terrazza tornerà come prima ma la struttura è stata realizzata c'è stata una rete su una delle terrazze della Certosa di San Martino a copertura di piccolo orto domestico composto da vasi dove se evidentemente coltiva pomodori e melanzane. Beato lui che se lo può permettere c'è anche un errore del mattino perché si dice melanzane non melenzane. Comunque si tratta di quattro palli per proteggere il mio orto invaso mica è una costruzione abusiva non è copertura minimizza Vona e per un'opera così io davvero non so se sia necessario chiedere un permesso anzi secondo me in nessun luogo c'è bisogno di chiedere il permesso per mettere una rete a protezione dell'orto invaso che dovevo difendere la topia a ferma. C'è anche la foto, questa è l'esclusiva del mattino ricordiamo, dell'orto appunto sul tetto e si tratta di questa struttura non autorizzata realizzata sulla terrazza della Certosa di San Martino nonché museo e ci sono anche le reazioni come ci racconta Luigi Roano per quanto riguarda questa vicenda, coro di censura ma adesso deve dimettersi, anzi è simpatico l'inizio del richiamo in prima pagina, l'ha fatta davvero grossa Fabrizio Vona scatenando un putiferio. Io mi dimetterei immediatamente, dice Tommaso Montanari che è professore associato di storia dell'arte moderna alla Federico II. Sul filo di ironia il commento dell'ex soprintendente Nicola Spinosa che abbiamo visto intervistato a Corriere Mezzogiorno i dettagli della vicenda non li conosco, che posso dire? Forse si è fatta autorizzare dal suo collega e bene architettonici o dal direttore regionale. Restiamo sulla prima pagina del mattino ricordandovi un'intervista dello stesso quotidiano di Via Catamone alla Boldrini Presidente della Camera che dice operazione trasparenza ora cittadini più consapevoli. Ricorderete che lei ha cercato di dare anche un input alla vicenda della terra dei fuoghi per quanto riguarda il lavoro in Parlamento. Ma a proposito di rifiuti c'è anche la cronaca giudiziaria che si occupa dei rifiuti ed è l'inchiesta che riguardava l'ASL di Casetta qualche giorno fa. Vediamo il titolo del mattino, rifiuti e appalti e assunzioni così il clan entrò in politica, sono le rivelazioni del pentito Pirozzi. Insomma ci sono l'inchiesta sulle infiltrazioni dell'ASL di Casetta. Veniamo ancora alla foto di centro pagina, è stata scelta una foto che è di un poliziotto che a San Giorgio e a Cremano fa vedere uno strumento di offesa, si tratta di tirapugni perché infatti i minorenni con tirapugni e mazze che rapinavano lo smartphone ai loro coetani e sono stati arrestati. L'ennesima vicenda sconcertante per quanto riguarda la cronaca nera a Napoli e provincia. Adesso c'è anche una curiosità prima di lasciare il mattino ed è un si tratta di una nave a torre annunziata con un cargo che è bloccato nel porto e quindi si tratta di una nave sequestrata o meglio sequestrati i marinai con la nave, scatta alla solidarietà, cibo per riparare i marinai. Non è la prima volta che succede nei porti nostri, è successo anche a Napoli con dei marinai russi che hanno stati costretti a non lasciarlo. Comunque vediamo il riassunto di Maurizio Sannino da torre annunziata per quanto riguarda questa vicenda nel porto. La Trader è una nave battente bandiera panamense e ferma nel porto di torre annunziata da oltre un mese per un contenzioso tra l'armatore turco e il committente del carico di legname che trasporta, che è un imprenditore di torre del greco. Gli otto uomini a cui vanno rischiano di restare senza cibo, allora è vietato anche sbarcare senza il permesso della polizia e così Capitaneria di Porto, Croce Rossa e Associazione Stella Maris hanno organizzato una gara di solidarietà per rifornire i marinai di genere alimentare e abbigliamento. Adesso io direi di cambiare pagina, ma restando al mattino sulla storia del giorno scelta dal quotidiano di Via Chiadamone, vale a dire quella del sovrintendente. Vediamo proprio la foto bellissima tra l'altro della Certosa di San Martino con il panorama sul golfo. Per quanto riguarda il titolo, sovrintendente Vona appunto nella bufera deve dimettersi, Certosa violata, studiosi ambientalisti contro Vona, Montanari è ingiustificabile e così va addio alla credibilità. Abbiamo già detto della reazione dell'ex sovrintendente Spinosa, vogliamo però anche farvi vedere un fotino, per quanto è possibile ovviamente perché è molto piccolo, che ci racconta la storia del degrado di questa terrazza. Sulla terrazza del suo alloggio il sovrintendente ha realizzato un orto, ma l'edificio che costeggia l'ingresso della Certosa Museo e che pure nella gestione della sovrintendenza cade a pezzi, nessun intervento e negozi abbandonati. Adesso rimaniamo sullo stesso argomento, ancora con il mattino, con le dichiarazioni anche abbastanza clamorose di Vona, perché un sovrintendente che ammette di non sapere, onestamente significa che non conosce le leggi che dovrebbe far rispettare. Comunque Vona chiedo scusa, non sapevo che occorressero autorizzazioni, vincoli esagerati e solo una rete pronto a smontare tutto. Il mattino fa anche un riferimento agli altri sovrintendenti che hanno avuto problemi. Ricorderete Guglielmo, l'ex sovrintendente per i beni architettonici, quindi aveva sede a Palazzo Reale, che finì invece nei guai per gli appalti. E non è finita, perché poi abbiamo anche Girolamini, monumento importantissimo a livello nazionale, con l'ex direttore De Caro che è stato condannato per il furto di libri e opere preziose. Restiamo ancora su questa storia, perché il mattino ci torna con, no, passiamo alla terra dei fuochi, vuol dire torneremo su questa vicenda però con altri giornali come Corriere e Mezzogiorno. Il mattino invece preferisce puntare questa intervista in esclusiva al Presidente della Camera, la Boldrini, e parliamo appunto della terra del fuoco con l'operazione Trasparenza voluta dal Presidente della Camera. È un'intervista, operazione Trasparenza per difendere la campagna, Boldrini, rivelazioni di schiavone, ora cittadini sono più consapevoli. Sempre per quanto riguarda la terra dei fuochi, dicevamo che se ne occupava anche il Ministro De Girolamo ieri, il Ministro dell'Agricoltura di origine beneventana, che ci dice che chi ha inquinato deve pagare. E allora vediamo proprio in particolare questo trafiletto che ci dice il Ministro che cosa ha intenzione di fare. Allora, chi ha inquinato deve pagare le bonifiche e va sanzionato con maggiore efficacia chi è colluso e chi è stato complice. Su questo non possiamo tacere, sarà dura, come tutte le riforme che si possono e devono fare in Campania, ma chi è dalla parte della legalità oggi deve scegliere dove stare. E quando appunto afferma il Ministro delle politiche agricole Nunzia De Girolamo, che si è detta totalmente e incondizionatamente d'accordo con il procuratore aggiunto di Napoli, Nunzio Fragliasso. Il magistrato infatti l'altro ieri aveva sottolineato che quanto la criminalità organizzata ha fatto e continua a fare nella terra dei fuochi è possibile solo grazie a un humus fertile composto da consensi, complicità e assenze. Adesso veniamo per l'appunto al Corriere del Mezzogiorno, come vi avevo accennato, che ha messo in prima pagina la vicenda dell'ultima fiaccolata che si è tenuta contro la terra dei fuochi e questa volta è accaduto a Caserta. Dunque sono stati in 20 mila, come ci dice nel titolo il Corriere del Mezzogiorno, in marcia contro i veleni, quattro preti a capo della protesta e cioè a Caserta Spinillo, Nogaro, Zanotelli e Patriciello, in piazza con i giovani, il risveglio di questa città dimostra che la nostra terra si salverà. Vogliamo anche leggervi qualche rigo di questo articolo perché appunto una mobilitazione simile forse non si era mai vista a Caserta e comunque finora la manifestazione principale che si è tenuta per quanto riguarda la terra dei fuochi in Campania. In 20 mila a marciare nel centro di Caserta, in silenzio che se ne sente lo scalpiccio, tutti dietro a una croce senza Cristo, perché su questo regno ci sta la terra, l'ha sottolineato Monsignor Angelo Spinillo che è il vescovo reggente del capoluogo di terra di lavoro perché appunto da poco era morto l'arcivesco di Caserta e ha uno siscione che ricorda che Caserta vuole vivere. Laddove Caserta sta per tutta la campania, tutta la porzione famigerata della terra dei fuochi, tutto è creato da salvare. I 20 mila rispettano la consegna degli organizzatori, niente slogan, niente urla, niente cori, pochissimi cartelli nel mare di folla, composti gli studenti delle scuole, un solo tentativo di disturbo da parte di un gruppo in cerca di protagonismo per uno striscione di Tempo Rosso di Pignataro Maggiore, fatto ripiegare però dalla polizia, succedeva questo soccorso Trieste, strada principale di Caserta e il vociale di un altro gruppetto di ragazze che rivendicava la proprietà di un megafono che non intendevano prestare e sostituire un microfono difettoso sotto la casa comunale. Ma sono appunto le uniche note da appuntare, ci racconta il mattino, poi tutto stupore nel registrare la città che si è riversata in piazza, uno scossone per dire basta agli scempi ambientali e per lanciare un SOS che è allarme e richiesta di aiuto insieme. Un grido silenzioso, si passi la retorica che sottolinea la gravità del momento che si vive, una sofferenza che va gridata con serietà e compostezza perché nulla si risolve con gli isterismi. Ancora su questa storia della marcia di Caserta il Corriere del Mezzogiorno ha dedicato due pagine, ma nella pagina a fianco in cui ci sono le foto della manifestazione c'è anche un altro argomento decisamente collegato che parte da Napoli ed è sul Facebook l'allarme per Sergio Costa. Chi è Sergio Costa? Dicono i comitati, non trasferite il comandante della forestale, il generale, qui c'è ancora da fare, l'investigatore che sta appunto scoprendo i veleni interrati, sarebbe decisamente grave se il corpo forestale, adesso cambiamo pagina, il corpo forestale cambiasse vertice. Adesso veniamo sempre per quanto riguarda la cronaca di Napoli di nuovo al mattino che ci parla dei conti della sanità, infatti arrivano le risorse, ci racconta appunto il mattino con le penali ai dirigenti Lumaca, un miliardo di euro per essere precisi per le imprese, la regione accelera, caldoro, pagare entro un mese oppure scattano le sanzioni. Ricordiamo un attimo questa storia dei soldi, dei debiti pregressi con questo sommario dello stesso mattino, si tratta di 3 miliardi per pagare i debiti contratti alla regione in tutti i settori a partire dal 1988, è il valore dell'operazione messa in campo seguendo lo schema del decreto legge 35. E ancora per quanto riguarda il mattino veniamo all'economia con la vicenda Alenia, perché che cosa sta succedendo all'Alenia che vediamo in questa foto? Sta succedendo che ci sono gli investimenti in ritardo e quindi c'è un SOS alla regione dell'azienda con l'appello dei sindacati a recuperare il tempo perduto per il progetto di nuova aereo ATR 90, un impianto bellissimo, quello di Alenia Pomigliano. Adesso veniamo alla cronaca, cronaca nera che si mescola però bisogna dire alla politica sulla vicenda dell'asla di Casetta che comunque riguarda anche un po' tutta la campagna. Ma veniamo appunto, si parla infatti anche di rifiuti, rifiuti e assunzioni, le mani dei clan sulla politica è il titolo che il mattino fa in base ai verbali. Dopo l'arresto di Polvinio e Pdl le accuse di Pirozzi un pentito borghese, intanto il consigliere è stato interrogato nel carcere di Santa Maria a Capo Avetere. Adesso veniamo invece alla vera e propria cronaca nera, ve l'abbiamo detto leggendovi i titoli della prima pagina del mattino nazionale, è una storia di quelle veramente tipiche della camorra napoletana perché che succede? C'è stato un vitalizio, il titolo, per far tacere i killer di Gelsomina. Nel delitto, a proposito della faida tra i clan, sarebbe coinvolto anche il boss dei gira di mennetta da 9 anni e starebbe pagando il silenzio. Insomma, un pentito ci racconta che a De Lucia, che è stato condannato all'ergastolo, vengono versati 10 mila euro al mese. Ancora per quanto riguarda la cronaca, è un attimo soltanto che la prendiamo, la cronaca quella della baby gang di cui vi accennavamo nella prima pagina del mattino. Vado a dire che è una storia che riguarda San Giorgio a Cremano, bastoni e coltelli presa la baby gang degli smartphone. La banda di quattro ragazzi è stata inseguita e bloccata dopo un colpo fallito ad opera della polizia. Poi vogliamo ancora parlarvi adesso di trasporti, però a che fare anche questo con la cronaca giudiziaria o nera che dir si voglia, perché si tratta di linee abusive, quindi si tratta di reati e sono stati sequestrati i bus della COP, è una società della costiera amalfitana che ha istituito delle corse in centro a Castellammare e c'è stato i blitz dei vigili e dei carabinieri. Ed ecco appunto per questa storia che ci parla di trasporto. Adesso invece veniamo in chiusura allo sport. Sport che parte con le scintille tra Conte e Benitez come ce le racconta la Gazzetta dello Sport. Vediamo qualche battuta già ve l'abbiamo detto in apertura di rassegna stampa. La pagina doppia è una di quelle pagine che vengono fatte dai giornali a fronte. Da una parte c'è Conte, lo vediamo in questa pagina per l'appunto con la mano sul mento pensieroso. Quello che ha raccontato per l'appunto il mister della Juventus, Napoli a 75%, senza scudetto avrà fallito. L'allenatore bianconero, noi già al 100%, quando lo saranno anche loro, allora a questo punto sarà la fine. È fin troppo chiara l'ironia dell'allenatore bianconero. Perché? Perché dice Conte, se loro hanno fatto un mercato da 90 milioni dopo la DIA Cavani sono arrivati anche tre ex del Real Madrid. Parliamo dell'altra pagina, quella che mette a fronte la Gazzetta dello Sport, appunto per quanto riguarda invece il mister Benitez. Allora, mister Benitez, anche lui in piedi, anche lui parla di battutine che riguardano il rivale. Eccolo qua, Juve favorita e Antonio lo sa. Rafa sente un telefono squillare e scherza pure se Conte è la formazione da ieri dopo. Va beh, insomma, mentre è stato un po' velenoso il mister della Juventus, bisogna anche dire che Rafa Benitez ha continuato con l'ironia, anche se però ha voluto puntualizzare, come ha fatto appunto, anche lui ha voluto puntualizzare sulla rosa. In questo caso la rosa della Juventus, dice il mister spagnolo, bianconeri super, con la rosa migliore della Serie A, Pirlo, non lo marco a uomo. Cambiamo giornale, cambiamo pagina, veniamo invece a quella del mattino sportivo che, guarda caso, ha fatto lo stesso titolo della Gazzetta dello Sport, vale a dire le scintille tra Juve e Napoli. Con Benitez che dice Antonio è una rosa favolosa e restano favoriti. E Conte, se Rafa non vince il tricolore, non ha fatto niente. Quindi volutamente messo a fronte nella pagina principale del mattino sportivo, l'Azzurro a sinistra e Conte a destra. Questo per far vedere appunto i due mister che si scontrano nella partitissima di stasera e io direi a questo punto di passare alle formazioni. La partita è alle ore 20.45. Noi partiamo con la formazione di padroni di casa, vede in porta la Juventus Buffon con Ogbonna Bonucci e Barzagli. Perché appunto Chiellini non dovrebbe esserci. Poi a centrocampo Asamoah, Pogba, Pirlo, Vidal e Isla. Mentre in attacco ci sono Llorente e Tevez. Ovviamente lo schema del Napoli è diverso e infatti vediamo che ci sono quattro difensori a far compagnia a Reina, Maggio, Fernandez, Albiol e Armero. A centrocampo Berani e Hiller. Per quanto riguarda i tre di supporto a Iguain, punta di riferimento dell'attacco del Napoli. Ci sono Cagliacone, Amsic e Mertens. Quindi come vedete la novità dovrebbe essere proprio l'inserimento del giocatore belga in quanto lo viene preferito da Conte e Benitez. Ormai stiamo parlando sempre di Conte e Benitez. Conte e Benitez è veramente un tormentone e oggi lo sarà fino a tardi questa sera. Lo preferisce a Lorenzino Insigne. Sempre per quanto riguarda le pagine dedicate dai giornali alla partitissima di questa sera, veniamo alla Juventus così come ce la racconta il mattino sportivo che preferisce puntare su Tevez come punto di riferimento della Juventus, un protagonista con avvio decisamente entusiasmante. Super Tevez, gol, assist e sacrifici per la nazionale perché vuole tornare in nazionale argentina. Dove tra l'altro il titolare, non dimentichiamolo, è proprio Iguain. Comunque la battaglia della pace per vincere lo scudetto e ritrovare la selezione. Cambiamo pagina, sempre restando però al match clou di questa sera. Quindi ovviamente se abbiamo parlato di Tevez parliamo a questo punto di Iguain. Iguain che ci dice il mattino prenota un gol alla Juve. La spinta di tifosi azzurri e di Maradona per l'attaccante argentino. Il Pipita segnò una rete a Buffon con la selezione, quindi con l'argentina, pronto stasera a fare i bis. Tra l'altro qualcuno si ricorderà che quella partita segnò anche Insigne, quindi fu una partita molto particolare, l'amichevole tra Italia e Argentina per l'appunto a Roma. Ricordiamo approfittando di questa pagina anche tutti gli appuntamenti della giornata calcistica. Alle 12.30 c'è l'appuntamento del pranzo calcistico Genoa-Verona, poi alle 15 Atalanta-Bologna, Cagliari-Torino, Chievo-Milan, Parma-Lazio e Roma-Sassuolo, partita che interessa molto ovviamente i Juventini e i Napoletani. Stasera oltre a Juventus-Napoli c'è anche Fiorentina-Sampdoria. Vogliamo anche ricordarvi però che una partita è stata già giocata, è quella dell'Inter che ha vinto sul Livorno 2-0 e quindi l'Inter come vedete nella classifica ha 25 punti, così come bisogna anche dire la prima vittoria del Catania che era proprio in coda alla classifica e invece ha guadagnato tre punti importantissimi per il mister De Cano che per l'appunto aveva preso una squadra in gravissime difficoltà, tanto più che aveva giocato le prime partite proprio contro Juventus e Napoli. Adesso veniamo a un'altra pagina del mattino che è quella che riguarda i tifosi, ma non i tifosi del Napoli che saranno a Torino, ma attenzione quelli della Juventus perché ci ricorda il mattino la curva bianconera, ciò ricorda nel sommario, ha la sospensiva, quindi cori anti Napoli, la Juve rischia la stangata, la procura FIGC si mobilita stasera con la prima task force contro il razzismo, anzi vogliamo un po' leggere questo articolo insieme a voi perché non dimentichiamo che non c'è soltanto il calcio giocato, ma c'è anche quello spesso violento o comunque rozzo degli slogan sugli spalti. Se lo Juventus Stadium fosse una persona sarebbe euforica per l'ennesimo tutto esaurito della stagione, ma un po' in imbarazzo e in notevole apprezzione nonostante l'abito delle grandi occasioni. La ragione è evidente, la procura federale guidata dal napoletano Stefano Palazzi affida le armi e mette lo stadio bianconero sotto stretta vigilanza. Guai a sbagliare al primo coro antinapoletano sullo stadio dei campioni d'Italia si abbatterà una stangata pesantissima e dunque stasera la squadra di 007, la procura che di solito è composta tra gli ispettori sarà composta da 4 stavolta, forse anche 5. Il motivo è chiaro, la curva degli ultra bianconeri è sotto strettissima osservazione, però ovviamente ci saranno anche occhi puntati a settore ospiti, vale a dire quello che ospita i giocatori, i tifosi del Napoli. Cambiamo ancora pagina, ma restando ancora alla partidissima di stasera perché in questi giorni tutti hanno un po' intervistato i doppi ex della partita come Ferrara, Guagliarella e così via e stamattina è toccato a Dino Zoffi, il portierone della nazionale campione del mondo nell'82, che iniziò la carriera dopo il mantova proprio nel Napoli. Zoffa, azzurri super, impresa possibile, il portiere campione del mondo, dice Tevez, i coin perfetti per il gioco di Conte e di Rafa. Hanno un attacco stellare, i napoletani, Cagliacone e Amasic possono colpire sempre, però naturalmente un portiere come lui non poteva non parlare anche dei due suoi colleghi in porta a Juventus e Napoli. Allora dice Buffon è fortissimo e superiore a tutti, ma Reina ha confermato di essere molto sveglio e particolarmente reattivo. Cambiamo giornale adesso, pur restando all'argomento del giorno, che è quello della partitissima di stasera, veniamo al corriere del mezzogiorno con Benitez, riassume ancora l'intervista della conferenza stampa di ieri, Benitez dice che la Juve è favorita, Conte invece no, lo scudetto tocca a te, la sfida è cominciata, Rafa si vince con mente e cuore. Non vi facciamo leggere le formazioni riportate dal corriere del mezzogiorno, per colma e tutti dalla gazzetta al mattino hanno messo la stessa formazione di cui vi dicevo prima. Veniamo invece alla pagina che a confronto mette la foto di Conte per parlare invece della serie B, perché ce lo permette il corriere del mezzogiorno che ci ricorda le due campane che ieri hanno giocato il turno di serie B. Ebbene, l'Avellino ha vinto a Brescia e così si è ravvicinato alla vetta Galabinov, sesto gol stagionale e Castaldo hanno firmato l'impresa degli Irpini, mentre invece per quanto riguarda la Juventus, la Juve Stabia scusate, ormai si parla troppo di Juventus oggi, solo un pari contro il Modena. Ma ricordiamo anche che a colazione ci sarà un derby di altre squadre campane, però in Lega Pro. Ricordiamoci quindi che le altre squadre sono Sanitana e Nocerina, alle 12.30 la Rechi ospiterà il confronto tra Sanitana e Nocerina. Cambiamo pagina, veniamo sempre per quanto riguarda la serie B al mattino, il mattino che si occupa innanzitutto dell'Avellino, dicendo che è stato fantastico il team Irpino con il Brescia che è finito KO in quel della Lombardia. Rastelli sfonde in trasferta con una prova di cirismo, opportunismo e organizzazione tattica, Galabinov vola in aria e segna di testa nel finale che è rete di Castaldo. Adesso sempre per quanto riguarda il mattino siamo proprio in chiusura, vogliamo parlarvi anche della Juve Stabia con la foto che ci mostra Vitale, ex giocatore del Napoli. È una Juve Stabia però bella a metà ed è un'amnesia, è così ed è pari. In vantaggio con il ricordo di Vitale la squadra si fa sorprendere dal Modena. Noi siamo in chiusura e per questo volevo parlarvi anche di un altro argomento sportivo, vale a dire Ischia e Stabia che giocano contro il loro tabù casalingo, quindi ancora altre squadre della Lega Pro in seconda divisione che si scontreranno appunto in casa. E chiudiamo con, abbiamo proprio pochissimi secondi con il basket e la palla a nuoto. Innanzitutto per quanto riguarda il basket è andata male la trasferta dell'expert Napoli a Trento, la vediamo, una trasferta senza fortuna perché è stata battuta a Trento in Lega 2 Gold. Poi vi avevo detto che volevo chiudere perché abbiamo proprio pochi secondi con la palla a nuoto, bene almeno qui c'è una soddisfazione con l'Acqua Chiara che domina e la Florenzia, la squadra di Firenze che è stata travolta. La Carpisa di Amamai risale al secondo posto in classifica e così aggancia la Cannottieri Napoli. Il break nel secondo tempo con un parziale di 5 a 0, gol e protezza per Petkovic. Ecco siamo in chiusura della nostra rassegna stampa domenicale, l'appuntamento ovviamente è a domani alle 7.30. Noi ci concediamo da voi, ricordatevi ancora gli appuntamenti di questa sera su TV Luna Napoli e Luna Sport per quanto riguarda il collegamento diretto da Torino per la sfida di questa sera. Per noi è tutto, grazie per averci seguito, una serena domenica.